Salve a tutti ragazzi, sono Felix96 e sono di nuovo per il secondo video, a parte il primo era un po' inutile con David Gers Siamo a Laser Manas, ora ve lo faccio vedere anche dalla mappa Eccoci qua, Laser Manas E vi insegnerò anche un bug su come si possa, diciamo, camperare appunto all'interno di un bug E così diciamo che siete abbastanza... lo potete usare sia in sparatoria sia in modalità libera Per essere dei footy camper Allora, quindi, allora dovete semplicemente venire in questo punto qua Vi appoggiate al muro, state in piedi, guardate qua dove sono io su queste scalette Dove solitamente c'è un bottino in difesa del bottino Poi venite qua, più su, più su, finché non vi farà saltare, quindi qua Vedete? E sono all'interno del bug Allora, all'interno di questo bug, niente, si può mirare, sparare, uccidere Ora si vede piuttosto scuro, lo vedo anch'io, ma vedete, comunque è fuori dalla parete qui E diciamo, non potete uscire da questa parte, potete uscire da questa e anche da qua davanti Guardate, ora io esco Cioè, volendo per uscire si può uscire anche da queste scale qua Vedete? Potete uscire dalle scale Da qui O se no potete anche uscire facilmente da qua, vedete? E questo, niente, potete camperare qui dentro Se vi serve camperare, c'è chi serve e chi non serve Tipo a me non serve Ma, comunque, il bug è questo Anche per questo video è tutto Dalla vecchietta che sembra una zingara Devil Girls e FedEx96 E tutto, alla prossima